Si è svolto lo scorso venerdì il primo modulo del corso di formazione sui disturbi del neurosviluppo psicopatologici nel Centro per la Formazione Permanente e l'aggiornamento del personale del servizio sanitario. È stata l'occasione per porre l'attenzione su alcuni argomenti molto importanti come fra gli altri il disturbo della comunicazione, il disturbo specifico dell'apprendimento e i disturbi del movimento. Si tratta del primo corso di formazione per pediatri di famiglia che viene svolto in Sicilia, ha sottolineato Roberto Sanfilippo, direttore generale del CEF Pass, che ha inaugurato la giornata. Sono stati più di 90 partecipanti fra pediatri, neuropsichiatri, psicologi e terapisti della riabilitazione. A presentare il corso è stato Sergio Speciale, pediatra, presidente dell'Associazione Culturale Pediatri del Centro Sicilia, che ha spiegato come la necessità del corso sia nata dopo la pandemia a causa di grandi sconvolgimenti, sia all'interno della società, sia all'interno delle famiglie, dove si è visto come i disturbi relativi al neurosviluppo e psicopatologici siano aumentati a livello esponenziale. Poi ha preso la parola Gherardo Rapisardi, pediatra e neonatologo, che ha evidenziato come l'Italia sia l'unico paese al mondo dove esiste il pediatra di famiglia. Ci sono professionisti pediatri, continua, che fanno una sorveglianza evolutiva nel tempo per conoscere bene il bambino. È importante cogliere tempestivamente ai segnali di allarme di un disturbo del neurosviluppo. In questo è fondamentale creare un rapporto di collaborazione profonda fra i genitori, il bambino e il pediatra. Il secondo modulo del corso di formazione avrà luogo il 20 e il 21 gennaio 2023.